Due giovani di Lattarico in provincia di Cosenza sono stati indagati per incendio boschivo. In questi giorni, al termine di un'intensa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, i militari della stazione Carabinieri Forestari di Montalto hanno infatti notificato l'avviso di conclusioni di indagini preliminari ai due ragazzi. I fatti risalgono a una notte di agosto, quando i due causarono un incendio distruggendo 3.000 m2 di macchia mediterranea e bosco di querce, lungo la strada boscata in località Bentolilla nel comune di Lattarico. Nonostante fosse notte inoltrata, quando l'incendio è scoppiato grazie alla segnalazione da parte della cittadinanza, nei numeri di pubblica utilità si è potuto intervenire e contenere le fiamme. La zona interessata all'incendio era già particolarmente attenzionata dai militari, i quali attraverso mirate indagini effettuate con la tecnica info-investigativa del MEF, metodo delle evidenze fisiche effettuate sul luogo dei fatti, oltre che con l'ausilio di un apparato video-sorveglianza in uso all'organizzazione forestale dell'arma, hanno accertato la responsabilità diretta dei due giovani, i quali hanno appiccato il fuoco dal ciglio della strada in ben quattro distinti punti attraverso l'utilizzo di un comune accendino. Come evidenziato dai fotogrammi estrapolati dai video delle microcamere, emerso come l'innesco provocato, la rapida combustione dell'erba secca sul bordo stradale e l'accelere propagazione delle fiamme nell'area boschiva.